Mentre va in onda un'ignominiosa puntata di Griglia di Partenza, il folle bobbiese nonostante lo abbia per il culo per anni, ha avuto l'ardire di invitarmi di persona oltre che al telefono, col grosso fastidio di Zamagni che non si è voluto sedere vicino a me, mentre non ha avuto problemi Pino Allievi, abbiamo saputo la notizia shock. Potrà tornare al suo pallottoliere o al suo Clementoni Jeremy Barges, l'uomo che ha fatto vincere titoli a chiunque abbia poi avuto la furbizia di ritirarsi al momento giusto, quasi chiunque. Tornerà al pallottoliere dato che lo hanno recentemente accusato di non avere le capacità tecnologiche di Forcada, Hamon Forcada come lo chiama Beltramo, poi vedremo perché lo tiro in mezzo, e di essere quindi una delle concause non più vincenti, delle non più vincenti uscite di Rossi. Valentino vorrebbe rimanere in Yamaha altri due anni ed è per questo dice che accontenta la Yamaha stessa che vuole mandare via Berger, licenziandolo lui, dicendo di aver anche rimandato più volte questo momento, come riportato da infomotogp.com che è l'unico sito specializzato in MotoGP, Moto2 e Moto3 che ha senso leggere oltre a quello d'Orna per quanto mi riguarda. Amici nella buona e nella cattiva sorte insomma, Valentino e Borges, Rossi non sa chi lo sostituirà, a questa cosa ci credono tutti. Borges prenderà una buona uscita, la casa è uccio in affidamento fino a quando quest'ultimo non avrà completato gli studio, ossia per sempre. Scherzi a parte, Rossi inizia a farsi la squadra per il 2014 e non solo per la moto ma anche nel box e fuori, oltre al team VR46 sponsorizzato Sky che avrà quindi nei suoi riguardi, nonostante questo insomma un atteggiamento totalmente imparziale, Mede Sanchini ai microfoni dovrebbe portare con se a Sky voci quasi certe e anche Beltramo in modo da essere coperto in qualunque momento del weekend. Beltramo a Sky porterà effettivamente la conoscenza dell'ambiente ma anche la conoscenza dell'inglese, dei nomi di tutti gli addetti ai lavori tipo Hamon Forkada ad esempio e di tutta l'amicizia coltivata con Crutchlow che dall'anno prossimo sarà il male assoluto, ancora più assoluto visto che guideranno a Ducati che come ci hanno insegnato è una moto di merda, anche se Ducati non fa molto per scollarsi di dosso questa nomea, guidata da piloti stranieri, primo fra tutti Dovizioso che è chiaramente svizzero, visto il trattamento anzi Lutti lo trattavano meglio. Detto questo un messaggio promozionale a EICMA Stand Nolan Group sono disponibili le repliche Massimo Roccoli che è quel pilota del mondiale Super Sport ignorato dalle telecamere fino all'ultima gara per il fatto di indossare i caschi Mr. Helmet e Bike to Eat. Evidentemente i messaggi già noti arrivati all'azienda Bergamasca sul non avere a che fare con me hanno avuto l'effetto contrario. Andateli a vedere, sono fatti su una versione entry level, l'N64 in modo che tutti se li possano permettere a 199 euro, questa realizzazione premia i vincitori del concorso fatto su Mr. Helmet e su Facebook i due designer, Indivisual e Rigoni, scelti da voi, Indivisual, Luca Indivisual, designer Rigoni, quest'ultimo nonostante si sia comportato da male educato. Nolan investe e premia giovani designer e quindi investe, è una delle poche case che lo fa. Questo è un prurito di sedere targato Mr. Helmet, visto che il mio guadagno per l'iniziativa è pari a zero e non percepirò alcuna royalty se non la soddisfazione di dedicare un casco a Luca Damilano, quel giornalista che va in giro per la Superbike, che è fissato su queste mie marchette con la Nolan. Quindi Luca stai tranquillo, me l'hai chiesto, ti faccio la firma e ti mando un casco. In ultimo, prima che chiuda, come devono per giustizia chiudere prima o poi tutte le riviste cartacee, potete comprare Riders di questo mese sul Men's Health con le ruote a pagina 66, che è evidentemente il numero del diavolo. C'è una mia intervista abbastanza lunga, dove è? 66 ho messo anche l'orecchio, non lo trovo. Dicevo, abbastanza lunga, ma tagliata nelle parti più importanti come è giusto fare, viene lasciato solo il punto in cui do delle vecchie puttane rifatte, leggete voi a chi, è quello in cui parlo di Biaggi Telecronista. E altre cose interessanti sono stato piuttosto. Il catenaccio, ossia l'introduzione non scritta da me, presenta delle puttanate inverosimili, tipo che sarei il Grillo de Noa a altri, cosa sbagliata, perché Grillo è diventato blogger quando era già famoso, invece io nasco blogger e non diventerò famoso mai, che sono pazzo come una scella di serpente, boh, delle robe così. Però vale la pena leggerle, insomma. Il resto dell'intervista, la parte mancante, la pubblicherò su Mr. Helmet prossimamente. Comunque comprate Riders, almeno sto mese, che ho avuto il coraggio di mettermi dentro, visto che non succederà mai più, e cogliete l'occasione per imparare quali pantaloni con risvolto e quali bretelle abbinare alla vostra Yamaha SR, o al vostro cancello da 1000€, reso vintage, effetto old style, sporco ruggine, con solo 12.000€ di spese aggiuntive. E vabbè, così mi sono giocato un altro posto dove scrivere, che comunque non mi avrebbe chiamato mai, perché va bene la trasgressione, ma la verità, dopo un po' rompe le palle. Scusate il cappuccio, ma sono in una cascina fuori Milano dove fa freddissimo e i blogger hanno questi posti qui dove andare a dormire.